Signori, benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo ancora a Miami e oggi faremo una giornata tranquilla qui in città Vi farò vedere delle parti della città, vi parlerò di alcune curiosità e di come si vive a Miami, come stiamo vivendo Allora, una prima importante info da sapere a Miami è che i parcheggi qua costano tantissimo Ci sono questi cartelli che indicano l'applicazione per pagare il parcheggio Tutti i parcheggi sono ovviamente delimitati dalle linee e bisogna stare esattamente all'interno della linea Anche se la macchina è più piccola, come vedete è lunghissima Comunque deve stare all'interno, non possono le macchine sovrapporsi e stare presente sopra la linea I parcheggi qui a Miami costano tantissimo, 4 dollari all'ora per qualsiasi veicolo, sia moto che macchina Ovviamente le moto hanno dei parcheggi loro specifici Sotto questo aspetto Miami è veramente cara, stiamo spendendo ogni giorno tantissimo solo per i parcheggi Una cosa poi bellissima di Miami, ma come di tantissime altre città americane, è la pulizia per le strade Ogni giorno la mattina si vedono passare degli addetti alla pulizia con i secchielli Che vanno in giro con scopa e paletta a pulire ed è veramente fantastico, ma anche i parchi Guardate questo parco quanto è pulito Altra curiosità di Miami è quella che vedete alle mie spalle, ovvero le palme Palme ma non solo, tutte piante tropicali Pensate che a Miami vengono importate dai paesi tropicali esteri E c'è una manutenzione particolare che viene effettuata a queste piante Perché crescono ovviamente i frutti, ad esempio il cocco E ovviamente se un cocco casca da una pianta del genere in testa di una persona la uccide E quindi ci sono degli addetti che vanno in giro a rimuovere appunto i frutti O a tagliare ecco ad esempio quella pianta a un ramo che sta probabilmente per cascare Abbiamo poi fatto un giro sul famoso Metro Mover di Miami Un treno sopraelevato con una linea di 7 km nel centro economico della città Che gira intorno ai grattacieli La cosa bella, oltre ovviamente alla vista, è che il mezzo è totalmente gratuito Siamo appena scesi dal trenino e adesso ci facciamo qui una passeggiata al Bricken City Center Che è una struttura enorme, molto molto bella, nuovissima Dove ci sono un sacco di negozi, posti per mangiare, è molto famoso qui a Miami Tornando alle curiosità di Miami, anche con la presenza di Bombo E qua dietro di Francesca abbiamo notato due cose La prima, girano per Miami dei veicoli veramente strani Una specie di show o macchine da golf con cui girano con le stere a palla Motorini, tantissimi motorini perché sono comodi E tra l'altro c'è da dire che qui il casco per girare in moto non è nemmeno legale Quindi girano tutti praticamente senza casco L'altra particolarità è che si fanno una marea di canne Siamo adesso passati di fronte alla villa di Versace dove è stato ucciso Tra l'altro Miami è famosa per essere la città dove risiedono moltissimi VIP E nella parte downtown di Miami ci sono moltissime ville di VIP famosissimi Shakira, Beckham E' famosa però la villa più costosa mi sembra che ci sia a Miami 60 milioni di dollari Che è la villa del proprietario del tizio che praticamente ha inventato il Viagra Anche questo è interessante, mi raccomando segnatevelo E' incredibile come ci sia un'intera praticamente palestra, sala pesi Qui nel parco praticamente al centro di Miami Beach Esattamente qua dietro Poi è attrezzatissima, è completa di moltissimi attrezzi Vedi ora che parlavano questi signori davanti a noi mi è venuta a mente un'altra cosa Miami ha una fortissima influenza cubana, americana in generale C'è proprio un quartiere cubano che è uno dei quartieri più grandi al mondo Dove? A qua a Miami, non l'abbiamo visto C'è uno dei più grandi quartieri cubani del mondo Però praticamente a Miami parlano sì ovviamente l'inglese Ma soprattutto alcuni quasi solamente spagnolo e non sanno l'inglese Quindi è quasi più importante sapere lo spagnolo qui a Miami che l'inglese E sempre parlando di Sud America Un'altra curiosità è che Miami è la capitale della cocaina Perché praticamente per Miami passa il 70% di tutta la cocaina che arriva negli Stati Uniti E per questo anche l'aeroporto di Miami è uno dei più controllati Ultima curiosità sempre su Miami come città Non è un'altra chicca Miami è semellata con Pescara Ma che significa semellata? Non lo so, l'ho letto su internet Ebbè però spiega che si viaggia semellata Ma non lo so, accontentatevi di queste informazioni Io che ne so che vuol dire che è gemellata con Pescara Stavamo guardando questi ragazzi giocare in spiaggia E abbiamo notato che praticamente ci sono penso 30 campi da pallavolo Non so se si vedono Comunque sono tutti qui Tutti sulla spiaggia Incredibile, tutti perfetti ovviamente A rete alta, al giusto La sera invece a Miami Beach è totalmente diversa dal giorno Cioè anche il giorno è un bel casino Però la sera è festa totale Piena di locali Con musica a palla Gente veramente strana Che passa in giro Ti passano delle serate abbastanza divertenti Signori, il video finisce qui Ci salutiamo con le spalle Un ristorante italiano Si chiama Fratelli da Bufola Dove abbiamo mangiato tre volte Questi giorni a Miami Si mangia veramente bene Sono tutti italiani dentro Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti